Risponde la segretaria telefonica di Cassa Porte, Berenice Water Sound Studio, stiamo lavorando per voi, lasciate un messaggio che vi richiamiamo. Pronto? Ragazzi sono Pedro e a Mishinita, a Maiomar, a Mugli e a Faticani, a Malfari e a Frato. Buongiorno giorno che comincia, quello che mi porterà, la tua radio manda a riedizioni di canzoni che hai sentito già. L'originalità si impone, è il nuovo flusso di un napoletano in trasmissione. Senti questa strofa a colazione quando sei ancora in pigiama, e prima che sta cominciando ti dice soltanto vitagrama. E sta sintonizzato che il canale è questo, prenditi un rap, vai di gusto, giusto. Genzo torna con lo stile grezzo come il rider in mezzo, che però non ha finito il pezzo. Per mamma che sta a casa e babbo che lavora, là è Giuliano Palma, Genzo suona ancora, sul piatto gira. E' il disco che consiglia il tuo DJ per il nuovo, e sei su questa taccia insieme aiuto e papà G. Non è il problema, la storia è come l'acqua vera, c'è il tuo grava di me da mattina a sera. Da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui. Da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui. Da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui. Il mio lessico è tra le stazioni gravi di web, un consiglio per il DJ che ha dei dischi per il luogo. Una latta di benzina è poco, ascolta questo è il pezzo, quattro stagioni la mia roba puoi ascoltarla, negli stono pure sulle bancarelle, ai mercatini come additivo contro il suono sporco. Agisco dal profondo, elimino le macchie di calcare dal tuo timpano. Tra la tempesta, di onde sonore che si espandono, tu vuoi le calorie per la tua giornata, ma col muso sporco di latte è sempre notte calata. Io mo ti do la roba buona da ascoltare da sera a mattina, fino a che il vinile non si consuma. Da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui. Da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui. Chiamano i fratelli, c'è un pezzo da finire per il mostro, ma non so cosa scrivere. Che palle, con questo sole cosa vuoi comporne? Sul variamento, ma che gran portento, aspetta un momento, non va. Non che confusione con l'ispirazione, è meglio che scenga a parià. Forse in effetti è meglio scendere a pagliare, non pensare a quello che non va, dare un taglionetto a tutto quello che succederà. Il futuro per adesso non mi tange, spizzo l'occhio alla giornata che mi spinge. A pensare a quello che sarà, la dura realtà l'affronto qui insieme a Pedro. Sì da mattina a sera, a roba vera e storia in Napoli. Sì da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui. Da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui. Da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui. Da mattina a sera, la vibrazione è positiva sai, lo sole che riscalda i tempi bui.